Si inaugura oggi anche in Italia l'anno della luce. Wolfgang Ketterle, premio Nobel, ci racconta perché alla luce ha dedicato la sua vita. Con il raddoppio del canale di Suez, sei ore in meno per il transito e profitti alle stelle, ma per alcuni il progetto minaccia l'ecosistema. Tra poche ore passaggio ravvicinato ad un asteroide, nessun pericolo, è tre volte più lontano della Luna, ma è grande come cinque campi di calcio. Buon pomeriggio e bentornati all'appuntamento con Leonardo, il telegiornale della scienza. Per la prima volta nella storia è riuscito un esperimento che pareva impossibile. Scienziati inglesi sono riusciti a rallentare la luce nel vuoto. Un risultato epocale che è quasi un omaggio simbolico all'anno internazionale della luce che si apre ufficialmente oggi anche in Italia. Noi abbiamo intervistato un Dobell, Wolfgang Ketterle, che vinse il premio proprio per rivoluzionari e scoperte in questo campo. A Laura De Donato ha raccontato perché ha dedicato alla luce tutta la sua vita. Nobel per la fisica nel 2001, per i suoi studi sugli atomi a temperature vicino allo zero assoluto e per aver realizzato in laboratorio il condensato di Bose Einstein, evidenziando le proprietà quantiche dei bosoni a temperature super fredde, Wolfgang Ketterle in realtà è stato attratto dallo studio della luce per una ragione apparentemente futile, la sua bellezza. Entrando in laboratorio ci racconta, ero così affascinato dall'eleganza dei raggi laser che sarei stato a guardarli senza mai stancarmi. Così è arrivato a studiare spettroscopia molecolare al Max Planck in Germania e presto è andato al Massachusetts Institute of Technology di Boston, dove insegna tuttora. E' proprio quello che suggerisco ai più giovani, scegliete un campo di studi che vi affascini, tanto da avere il piacere di lavorarci ogni singolo giorno. Le soddisfazioni nel campo dello studio della luce si sono moltiplicate in pochi anni. Oggi i laser sono ovunque, sono così affidabili, facili da usare e poco costosi, quanto dieci anni fa nessuno avrebbe potuto immaginare. Il potenziale che Ketterly e i suoi colleghi hanno visto nello studio della luce è soprattutto meccanico. Se il sole mi illumina, ad esempio, avverto il calore della luce solare e so che sprigiona energia termica. Quello che non sento è che la luce mi spinge attraverso la forza meccanica. È una forza molto debole, ma se uso la luce per illuminare un atomo, allora vedo che questa forza sull'atomo è potentissima. Grazie a queste osservazioni le ricerche di Ketterly si sono concentrate sulla possibilità di spostare gli atomi con il laser di luce, assemblandoli e montandoli come pezzi di Lego, arrivando a creare materiali con proprietà mai studiate prima. Siamo riusciti a creare la materia super fredda in una camera vuota, isolata dall'ambiente esterno. Ma l'unico modo per toccare questa materia, per vederla e per modificarla, è illuminarla con una luce laser. Così ne abbiamo visto le ombre, la rifrazione attraverso cui possiamo dedurre le caratteristiche degli atomi super freddi e dei nuovi materiali creati riassemblando gli atomi. Chi capisce la luce capisce l'universo, perché la luce è fatta di onde, di elettromagnetismo, di meccanica quantistica, essendo fatta di fotoni, dunque un microcosmo attraverso cui studiare dalla fisica classica a quella delle più minuscole particelle. quantum physics e modern physics. So if you understand light, you understand the universe. E noi di Leonardo seguiremo certamente...